perfetto dai possiamo anche partire per questa presentazione che più una presentazione è un anniversario dei nostri cinque anni dell'apertura di questa attività ossia dell'MeB Team dove siamo partiti a zero quindi facciamo questi 20-25 minuti concentrazione al massimo staccatevi da tutto e da tutti perché sarà veramente una presentazione breve ma intensa dove spiegheremo l'inizio spiegheremo il durante parleranno delle testimonianze eccezionali e poi parleremo del piano marketing della fiscalità e tutto quello che vi serve per lavorare quindi chiudiamo l'audio e procediamo bene dai ok 300 persone adesso perfetto possiamo partire abbiamo passato le 300 persone molto bene allora condividi schermo e andiamo in condivisione e partiamo non è questa che dobbiamo condividere ma bensì ce la facciamo eh non ho capito perché zoom mi ha tagliato fuori a me che sono l'organizzatore e mi ha fatto perdere 10 minuti di tempo perfetto dai partiamo bene dai allora come ho detto tre premesse scollegatevi tutti carta e penna e scollegatevi da tutto carta e penna e concentrazione per questi 20 minuti allora chi sono io prime sono daniele tentori ormai sono diversamente giovane sono vecchio e stanco direi anche e soprattutto lo stanco di alzarmi le 6 di mattina e tornare a casa le 7 di sera come fa il 95 per cento delle persone eh che comunque lo fa andare bene io a me non andava più bene ho iniziato a sviluppare a pensare di questa sviluppare questa attività perché volevo principalmente più tempo facevo un buon lavoro se si può definire un elettrotecnico ma veramente soffrivo tantissimo non avere tempo per me per la mia famiglia per fare quello che mi più mi piace non era neanche una questione economica era proprio una questione di eh una questione di tempo quindi ho iniziato a sviluppare questa attività l'abbiamo siamo partiti io e Marisa e abbiamo subito avuto dei grandi risultati infatti piano 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 non tanto ma veloce veloce eh siamo sempre abbiamo sviluppato questa attività e ora abbiamo avuto eh dei grandissimi risultati ormai siamo un gruppo di oltre 400 persone eh io grazie a questo lavoro ho realizzato questo sogno che non era che era di non alzarmi più le sei di mattina quindi più tempo tanto tempo per me per fare sport per viaggiare per la mia famiglia e dopo sono arrivati anche i soldi cioè dopo subito sono arrivati anche i soldi e vi garantisco che avere una bella stabilità economica potete togliervi tanti tante 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 soddisfazioni mi mi sono comprato casa o meglio ho estinto il mio mutuo che avevo sulla casa mi sono comprato il sogno che a tutti gli uomini una Porsche è sempre stato il mio sogno che se facevo il dipendente te lo sogni quindi sono riuscito a realizzare questo sogno che a pensare dall'inizio fa ridere poi sono diventato un team un leader dell'azienda con la qualifica più alta che è quella del diamante black e che mi dà tante 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 soddisfazioni sono stato riconosciuto anche da 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 oggi tassero mi vengono le parole da future che è il giornale un po che si occupa del network marketing quindi sono sono tra i migliori incaricati di europa l'anno scorso infatti sono stato premiato e ho preso sono arrivato ottavo ho preso un bonus di 8 mila euro quest'anno fresco fresco e questo eravamo all'evento che si è stato fatto a lucca dove stati premiati i migliori 500 networker che noi eravamo quasi più di 37 persone è stato premiato come settimo e ho preso un bonus di 12 mila euro senza contare tutti i miei stipendi ormai io prendo tre quattro volte un medico quindi guadagno veramente bene e soprattutto ho tanto tempo per me e ho veramente tante tante soddisfazioni e la soddisfazione migliore è vedere che tutte le persone che lavorano con me prendono delle grandi soddisfazioni come sto prendendo io e poi tutte le persone le sentirete subito dopo di me come testimonianze adesso mi presento un po io dopo sentirete tutte le persone una parte delle persone che lavorano come ho detto più volte specialmente per gli ospiti questo 12 mila euro ho preso come bonus l'ho messo a disposizione del team ne ho già staccati quasi 3 mila euro li ho messi a disposizione del team ne ho già pagati quasi 3 mila come bonus come corsi perché sono a disposizione del team abbiamo fatto una sorta di pnrr chi non sa cos'è pnr è un po come ha fatto lo stato si presenta il progetto si valuta e lo si porta a termine quindi sono stati proposti dei corsi abbiamo acquistato dei corsi sono stati proposti dei bonus abbiamo pagato dei bonus alle persone meritevoli e via dicendo quindi questi 12 mila euro li ho messi a disposizione del team con me sono state premiate anche altre persone quindi snap che l'azienda con cui collaboriamo è un'azienda veramente longimirante è che tiene tantissimo ai propri incaricati e infatti aveva un utile un dividendo come utile ha messo l'utile un utile da 200 mila euro diviso i diviso i 15 migliori incaricati qua vedete questa era la nostra tavolata è stata premiata anche un'altra persona che è stata è stata regalata a un porsche come come prima classificata e via quindi tutto è funziona perfettamente bene allora che che vi ho spiegato chi sono io adesso vi spiego gennaro stai fermo con 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 il monitor se no mi pastrugni tutto il monitor attenzione ok aspettate che gennaro qua mi sta facendo un po di danni gennaro stai fermo ok poi sistemiamo anche gennaro siamo a posto interrompi perfetto chi siamo noi quindi il nostro il nostro team è ormai è un team vincente dove puoi trovare tutto quello che ti serve per lavorare la nostra forza è lavorare insieme quindi tutte le persone che lavorano con noi e che lavoreranno con noi avranno un metodo una formazione un supporto continuo quindi nessuno è lasciato al caso logicamente cosa dovete fare impegnarvi non siamo qua a regalare soldi a nessuno non siamo qua a promettere soldi a nessuno ma siamo qua a darvi un'opportunità lavorativa che a noi ha cambiato la vita o a tantissimi ha migliorato la loro vita perché c'è anche chi 500 euro al mese in più fa molto 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 comodo quindi il guadagno in relazione al tempo che gli dedicate se lavorate lavorerete due ore al giorno guadagnerete 400 500 euro al mese se ne lavorate 12 ne guadagnerete 3.000 tutto è in base al tempo che gli dedicate e alle vostre capacità la nostra formazione nostro metodo funziona se no non ci farebbe fatturare più di 3 milioni di euro l'anno e non pagherebbe tutti questi stipendi che paga nella struttura che poi vedrete quindi niente lasciato al caso noi lavoriamo con i social principalmente ma staccatevi da i social divertimento c'è chi passa delle ore sui social perdere tempo noi stiamo sui social guadagnando sviluppando questa attività facendoci conoscere e sviluppando i nostri prodotti i nostri servizi ok quindi detto questo lavorare con noi vuol dire fondamentalmente diviso in quattro step quindi i segreti dei social come vi ho detto io facebook instagram tiktok whatsapp linkedin youtube i vari funnel le varie line page quindi tutto è sotto controllo poi ci sono tutte le presentazioni di supporto che il team dà alle persone che lavorano con noi come ho detto prima nessuno è da solo abbiamo una crescita personale una cosa importantissima è il training il mindset e le tecniche migliorare la nostra crescita per questo questo lavoro ti migliora la tua crescita personale che serve sia sul lavoro ma anche nella vita per capire cosa vuol dire lavorare con la testa e quindi avere sempre un mindset un mindset positivo che vi servirà sia sul lavoro ma anche nella vita quindi uscire dalla propria di zona comfort vuol dire risolvere problemi che a volte sono piccoli ma tante persone anche problemi piccoli sono grandi questo lavoro ti aiuta e ti insegna a uscire dalla tua zona di comfort e affrontare le varie difficoltà che ti dà la vita sia sul lavoro che ma anche nella vita ricordatevi che se voi siete sicuri avete autostima la vostra famiglia e i vostri figli vi rispetteranno se voi non avete autostima i vostri figli saranno insicuri e non avranno autostima e poi ve li ritroverete contro quindi imparate a avere tanta sicurezza di voi e tanta autostima di voi perché la vita una bisogna godersela questo lavoro insegnerà anche avere una crescita personale e migliorare il proprio mindset poi generatore di contatti e abbiamo già parlato è tutta la parte di social quindi lavorare con noi vuol dire partire a lavorare con un team vincente che lavora guadagna fatto da se da persone serie professionali ed è molto importante allora e abbiamo quasi concluso la presentazione siamo partiti io e marisa quindi cinque anni fa e piano piano siamo sempre invitati di più sempre più bravi sempre più seri sempre più avanti sempre più avanti ora siamo oltre 400 persone in tutta europa perché noi lavoriamo in tutta europa non solo in italia abbiamo diversi direttori nazionali in europa ok quindi anche per le ragazze rumene per le ragazze albanesi ci sono ragazze bulgare cioè veramente siamo sviluppati in tutta europa e ormai siamo veramente fortissimi ok quindi adesso è il momento di sentire altre storie altre persone sentiremo piano piano vi farò sentire vi farò vi farò ascoltare una decina di testimonianze di persone che hanno cambiato la loro vita ce ne sarebbero veramente tante però la zoom durerebbe quattro ore quindi non va bene ok quindi adesso sentiamo le loro testimonianze e poi procediamo con la presentazione allora io lascio nel frattempo vediamo quanti siamo siamo ancora 100 in zoom e siamo 320 siamo 220 collegati in youtube e 100 collegati in quindi siamo 320 persone bene allora io direi di passare la parola alla nostra nuovo diamante fresca fresca diamante che l'ha fatto due mesi fa la adriana adriana grippo presentati e facci sentire chi sei cosa fai allora buonasera a tutti un po emozionata come se fosse la prima volta non lo so perché ho parlato tante volte ma stasera è particolare particolare perché vedo tanti ospiti e sono contenta che siate tutti qui ad ascoltarci parlerò in breve ho 53 anni sono mamma di due ragazzi e sono moglie sono sposata viva palermo e ho intrapreso questa attività faccio il compleanno a dicembre quindi a dicembre faccio quattro anni che sono nell'MB team e perché MB team perché snap perché snap mi ha dato e soprattutto l'MB team mi ha dato la possibilità di poter rinascere dal punto di vista economico e di realizzare di nuovo ciò che avevo perduto all'età di 48 anni perché avevo perso il lavoro e quindi una donna matura penso che nessuno gli potesse dare un altro lavoro un'altra possibilità l'MB team e la snap mi hanno dato questa possibilità con una bellissima formazione sono partita non da zero ma da sotto zero perché in realtà io nasco come insegnante di scuola materna ed elementare e non pensavo di poter realizzare il mio sogno di essere di nuovo libera in età così matura o in età che già praticamente ero quasi da pensione quindi sono una diversamente giovane eppure ci sono riuscita partendo da zero perché ho seguito bene la formazione perché mi sono impegnata a oggi ricopro una bellissima qualifica sono un diamante appunto della dell'azienda ho costruito un team ne vado molto fiera lavoriamo insieme collaboriamo tutte insieme perché insomma non non sarai mai sola chi entrerà non sarà né mai solo né mai sola e quindi niente ragazzi io sono partita veramente da sotto zero non non credevo di potercela fare però mi sono impegnata mi sono impegnata ho preso questo lavoro come un lavoro anche perché come diceva poco fa Daniele anche se noi lavoriamo sui social ho capito che sui social si poteva monetizzare e quindi lavoro comodamente da casa con un pc con uno smartphone e quindi da oggi veramente sono realizzata e con me ho realizzato il sogno di non dire più no ai miei figli questo è quanto lascio la parola scusate a Valeria la mia collega così racconta di seguito la sua di storia ciao sono Valeria ho 51 anni da pochissimi giorni e lavoro diciamo grazie e lavoro full time in in banca quindi un lavoro full time per cui tante volte mi sento dire ma come fai avere il tempo no perché a volte lavoro anche 8 10 ore al giorno questo lavoro mi ha dato talmente gioia talmente la voglia di riuscire di dare la possibilità ad altre persone di avere la stessa gioia di fare questo lavoro e di aiutare le persone a star bene perché con il nostro lavoro vuol dire consigliare anche prodotti che fanno star bene le persone quindi tutto questo mi ha dato talmente tanta gioia che mi ha fatto superare il non ho tempo ma mi ha fatto affrontare ok mi organizzo per averlo quindi anche con un lavoro full time sono quasi diamante mi manca un 10 per cento sono da quattro anni questa meravigliosa azienda e diciamo che questa tipologia di lavoro mi ha appassionato prima di arrivare qui io lavoravo in un altro network che non mi ha dato soddisfazione quindi siccome non mi faccio mai mettere parocchi come si fanno mettere tante persone dalle proprie team leader che dicono ma sì non ti preoccupare tutto bene è fantastico di qua di là a me piace ragionare sempre con la mia testa e quindi ho deciso che il lavoro mi piaceva tantissimo e ma non ero nel posto giusto quindi la seconda volta ho cercato consapevolmente e ho trovato questa meravigliosa azienda che è una azienda italiana io non compro neanche un pomodoro se non è italiano quindi per me era già una grossa diciamo qualità veramente importante per me e ho trovato questo team che in breve tempo mi ha dato la formazione che non avevo in passato quindi una formazione completamente gratuita che da zero mi ha insegnato a lavorare quindi lavoro full time in soddisfazione di lavorare in un altro network no e quindi queste due cose si sono fuse per cercare il posto giusto io dico sempre ero la persona giusta nel posto sbagliato ora sono la persona giusta nel posto giusto quindi buttatevi in questo lavoro non abbiate paura di iniziare sia che non lavoriate quindi come primo lavoro che come secondo lavoro è fattibilissimo basta diciamo volerlo e organizzarsi la cosa che mi piace tantissimo è che tutti collaboriamo quindi anche chi non ha esperienza viene accettato e aiutato con molta umiltà nessuno è il capo di nessuno qua siamo solo persone con più esperienza che vogliono aiutare persone con meno esperienza ma nessuno è il capo di nessuno noi siamo il capo di noi stessi quindi questa è una cosa secondo me bellissima anche se poi bisogna stare attenti perché essere il capo di se stessi vuol dire organizzare la propria giornata e per lavorare no quindi bisogna fare anche un passo di di qualità come diceva prima daniele di mindset che ci fa crescere non solo nel lavoro ma nella vita quindi questo è veramente importante io veramente ho talmente tanta gioia talmente tanto vigore che mi ha fatto riprendere la voglia di lavorare perché quando lavori da tanto tempo in un ufficio a 51 anni alla fine ti spegni no alla fine ti spegni non c'è non ci sono alternative invece ho ritrovato veramente tanta gioia tanta soddisfazione e nel mio team ho visto persone arrivare timidissime che neanche se facevano magari le foto durante le ferie che adesso magari fanno delle dirette su facebook e questa è la cosa più bella più bella perché come appunto diceva prima daniele questo lavoro ti ti cambia in meglio ti fa buttare via tutti i limiti che tu hai e che ti bloccano anche nella vita di tutti i giorni perché insieme si cresce insieme si va avanti e si superano i propri ostacoli anche motivi quindi se il tuo ostacolo più grosso è ma io sono timida non ce la farò mai insieme ce la si fa questo è sicuro perché più di metà del mio team è entrato così timidissimo pauroso ma insieme senza mai forzare la mano nessuno si va lontano insieme si va veramente lontano quindi vi aspettiamo siamo una grande famiglia e do lo spazio alla prossima alla prossima prima volta brava brava male adesso facciamo intervista a doppia lingua ok quindi parla la luiza che è brasiliana e ci parlerà anche in portoghese perché ci sono un po di ospiti che parlano portoghese quindi a te luisia fantastico ciao a tutti sono emocionata perché parla in portoghese io non sto acostumata a parlare in portoghese ma io vorrei tentare dare a mia esperienza anche in portoghese per tutte le persone che ora in questo momento stanno mi scopendo io sono una moglie di più di 50 anni casata e con figli sono una estetica ma il mio sogno era quello di me realizzare independentemente e avere un lavoro mio fiz la scuola di estetica infelizmente non consegui seguir in questo ramo perché ho bisogno di investire molto dinero ok quindi ho fatto molti trabalhosi ho fatto molti trabalhos ma l'altro che ho fatto in più di 50 anni le porti mi fecharono la cara e ho bisogno di trovare una soluzione la mia soluzione che ho trovato fu il network marketing ok e questa non è la prima empresa che ho entro io ho fatto due esperienze prima e come diceva a Valeria pensavo di non di non essere capace di fare questo lavoro perché io non conseguia andare per la fronte tentei molte volte e non consegui quando io stava in una situazione realmente desesperata io ho trovato questa empresa che grazie al supporto del gruppo mi senti realmente in una famiglia mi aiudarono a crescere e oggi io ho ho un status in questa empresa è ben importante io anche sto facendo sucesso io sto crescendo e perché il mio team sta crescendo con me per questo se tu adesso sta ascoltando questa questa mia mia questa mia mia intervista io posso dire solo questo qui non si senti sozina c'è sempre qualcuno che va aiutare a te e non non sperare per che non si senti sozina perché non si senti sozina quando si entra non si senti sozina non 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 si senti sozina ok lo importante è iniziare perché qui si va a incontrare tutto il supporto che si senti sozina per per iniciare una attività non non hai nada a perdere non perde nada perché non deve fare nenhum tipo di investimento ok allora perché non riconosci sono Luisa ho più di 50 anni, sono una mamma e sono un estetista. Di lavori ne ho fatto tanti, ho fatto la scuola di estetista perché il mio sogno era quello di diventare una donna indipendente, di aprire la mia propria attività. Un sogno che non ho potuto realizzare perché aprire un'attività improprio significava spendere troppo, fare un investimento che io non avevo economicamente la possibilità di farlo, perciò ho provato di tutto. Però quando hai più di 50 anni, lo sappiamo benissimo, sei una mamma e le porte si chiudono in faccia già a 40 anni, perciò oggi lavoro ne ho fatto veramente tutto, dai lavapiati alla commessa, babysitter, golf, responsabile in albergo, di tutto e di più. Perciò non sono mai stata una persona che sono rimasta con le mani in mano. Il network marketing per me mi ha salvato la vita, quando io pensavo ormai di non essere capace di fare niente. Perché? Perché avevo già provato due esperienze, avevo l'autostima sotto terra, ero veramente disperata, ho pensato tra me e me quando mi è apparsa questa possibilità circa tre anni o mesi fa, ho detto mi butto, tanto non avevo nulla da perdere, iscrizione gratuita, non dovevo investire nulla, ho detto se non ti provo non potrò mai sapere, qua veramente posso sconvolgere la mia vita e è quello che sta succedendo. Da quando ho deciso di prendere sul serio, la mia vita è cominciata a cambiare. Mi viene veramente la pelle d'occa pensare di tutti quelli che sono riusciti a realizzare quando ho capito che veramente qua c'è la possibilità a tutti di crescere. Perciò il mio team sta crescendo, ci aiutiamo, abbiamo veramente, siamo in una grandissima famiglia perché? Perché tutti quanti cresciamo insieme. Perciò se stai pensando, se sei disoccupata, se hai un lavoro e non sei soddisfatta, qua è il momento giusto di entrare perché nella nostra azienda sta andando veramente la grande e c'è posto anche per te, anche se hai più di 50 anni. Ti aspetto. E adesso faccio parlare la mia collega Valentina. Grazie Luisa, grazie, buonasera a tutti. Ci hai dato un po' di Brasile questa sera. Salutaggi. Salutaggi. Allora, io non vorrei essere ripetitiva e diciamo dire tutte quelle cose che hanno già detto le mie colleghe, no? Che siamo un team meraviglioso, che abbiamo la formazione, insomma tutte queste cose sono state già dette. Io posso riportare quella che è stata la mia, il mio perché, la motivazione per cui ho iniziato questa attività. Anche io, avendo 53 anni, quest'anno compio, anche io a dicembre faccio il compleanno con Snap, saranno quattro anni, ho anche io quasi raggiunto la qualifica, quella più ambita da tutti, che è quella di Diamante, che spero di chiudere entro la fine di dicembre. E quello che mi ha spinto ad iniziare questa attività sono state una serie di riflessioni dopo che ero stata tampinata dal buon Daniele Tentori, perché io di questa attività non ne volevo assolutamente sapere nulla. Però poi a un certo punto ho avuto un attimo di riflessione e ho guardato la mia vita, insomma, degli ultimi anni, cioè da quando ero entrata nel mondo del lavoro fino al giorno in cui ho incontrato Daniele. E voltandomi indietro ho visto una persona che si era data tanto da fare nella vita e che però non era mai riuscita a realizzare quasi nulla, cioè quello che facevo era sopravvivere. E mi sono chiesta, ma è questa la vita che voglio? Voglio sopravvivere tutta la vita, cioè cercare di arrivare a fine mese per coprire le spese, senza potermi godere la mia famiglia, senza potermi concedere degli sfizi. Quello che si dice proprio tantissime persone ad oggi sopravvivono e la risposta che mi sono data è assolutamente no e questa è stata la motivazione più grande che mi ha spinto ad iniziare questa attività. Mi sono voluta dare una grande possibilità di poter dare davvero una svolta alla mia vita. Ragazze, si fa, si dice sempre, se qualcuno l'ha fatto prima di voi vuol dire che è possibile e qui è possibile. Io in quattro anni ho completamente ribaltato la mia situazione economica, personale, familiare. Ho iniziato a tirar fuori dal cassetto quei sogni che erano lì dentro e stavano facendo la muffa e che se avessi continuato a sopravvivere non avrei mai potuto realizzare. Questa azienda e questo team e questa attività mi ha dato la possibilità di realizzarmi come donna, di prendere il mio riscatto nella vita. Ad oggi ho già tirato fuori parecchi di quei sogni che avevo nel cassetto, adesso ne ho qualcun altro che è un pochino più grande e che sono sicura che a breve riuscirò a realizzare. Quindi senza che parlo di formazione, ragazze buttatevi, questa è un'attività che si impara, non abbiate paura. Io tante volte parlo con le persone e mi sento dire ah ma io non so se sono capace. Ma tu quando sei nata hai capace di camminare, di parlare, di andare in bicicletta? No, si impara, tutto si impara, si impara anche questa attività che poi fondamentalmente io dico sempre che è a prova di stupido perché è veramente molto semplice. Basta seguire la nostra strategia e non ci sono santi che i risultati arrivano. E come sono arrivati per noi, per queste persone che sentirete stasera che sono poche rispetto a quelle che in realtà hanno raggiunto grossi risultati, ce la può fare chiunque. Quindi vi aspettiamo nel team, abbraccio aperte e lascio la parola alla prossima, alla mia collega. Nicoletta, brava Vale. Grazie, ciao. Nico, Nico, adesso lei ci farà anche, lei è una bella intervista doppia lingua, italiano e rumeno. Nico, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Ciao Super Nico, vai. Io mi chiamo Nicoletta, ho 35 anni, sono di nazionalità rumena ma vivo qua in Italia e sono una mamma di due bimbe piccole e sono entrata in questa attività un anno e mezzo fa. Adesso senza entrare nei dettagli perché i miei colleghi, le mie colleghe vi hanno già detto tutto, voglio raccontarvi perché io ho scelto questo lavoro. Praticamente mi trovavo a casa con una bimba piccola e incinta con la seconda, con una sola entrata al stipendio di mio marito e volevo ovviamente un'entrata in più, più soldi. Io adesso vi chiedo, secondo voi se io sono ancora qua dopo un anno e mezzo si guadagna in questa azienda? Sì, dipende solo da te, quanti soldi vuoi? Tutto dipende da te. Perché ho scelto Snap? Perché mi sono piaciuti molto i prodotti, il piano marketing è uno dei migliori. Mi sentite? Sì, sì, vai, 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 Nico. Ed è un lavoro che ti gratifica praticamente. So che in questa sera ci sono anche tantissime ragazze rumene, allora volevo dirgli una cosa anche per loro nella nostra lingua. Grazie. Vreiam să vă spun, să vă gândiți la un lucru, da? Când ați plecat din România, din țara voastră, cum toți am plecat, ați riscat, da? Pentru că nu știați ce v-așteaptă, nu știați cum o să fie și ați riscat. Dar ați riscat pentru a avea o viață mai bună, nu? Același lucru se întâmplă și aici, doar că aici nu riști nimic. Deci ai posibilitatea să-ți îmbunătățești calitatea vieții, dar nu ai nimic de pierdut, nu riști nimic. Și vă spun eu, că sunt aici de un an jumate în echipa asta, unde am avut practic totul, dați-vă o șansă, pentru că merită, dacă într-adevăr vă doriți o viață mai bună. Noi, niente, questo è quello che li volevo dire. Grazie. Abbiamo capito tutto noi. Sì, li ho detto tutto. Grazie, grazie di tutto. Grazie a te, Nico. Brava, brava. Ok, proseguiamo con la Super Milena. Che mai... Eccomi qua. Buonasera a tutti. Allora, racconteră anch'io la mia storia, visto che comunque già avete più o meno intuito di che cosa si tratta questa stupenda attività. Veramente questo è un bellissimo lavoro. A me ha salvato veramente la vita, ma per quale motivo? Sono un ex operaia metal meccanica. Ho lavorato per 26 anni in fabbrica. Una vita. Pensavo mai di finire la mia vita lì dentro, se mai arrivavo alla pensione, ma nello stato in cui ero non ci sarei comunque arrivata perché ero talmente disperata, talmente soffrivo che stavo veramente male e questa è stata, diciamo, la mia salvezza. Quindi ho iniziato questa attività. Siamo già una decina d'anni. Io comunque faccio questa attività insieme a mio marito, Fabio Greco. In questo momento non c'è perché lui ha un primo lavoro. Io invece sono riuscita a liberarmi. Quindi sono cinque anni che ho dato le dimissioni. Ho iniziato appunto unendo questa attività al mio primo lavoro di operaia. Quindi per tutte quelle persone che pensano di non farcela, perché pensano di non avere tempo, non è così. È possibile se la motivazione, se il tuo perché è veramente grande. Quindi ho iniziato in questo modo. nonostante facevo otto, nove ore in fabbrica con i turni, nonostante avevo una famiglia e le mie bambine all'epoca erano piccoline e non avevo il tempo di stare con loro, nonostante anche le altre attività che abbiamo iniziato precedentemente non sono andate bene. Quindi che cosa voglio dire con questo? Che non ci siamo mai scoraggiati, non ci siamo mai persi d'animo e io a tutti i costi volevo un riscatto, volevo la mia libertà perché mi sentivo in prigione. Quindi quando non si sta bene in una realtà lavorativa, nonostante il lavoro è la cosa più importante, però quando non stai bene, soffri, ti porti poi a casa tutte le conseguenze, vivi male con la tua famiglia e non riesci a goderti i tuoi figli e non riesci a goderti nulla di nulla, allora arriva il momento di dire basta così è stato per me, avevo bisogno di ossigeno e quindi nonostante non avevo competenze, nonostante non ero capace a fare niente, da solo l'operaia perché l'ho fatta per una vita intera, mi sono data questa possibilità. Sono partita da zero, piano piano mi sono impegnata fino a quando ho iniziato a capire come funzionava il sistema e ho capito veramente che sarebbe stata la mia soluzione ideale. Quindi siamo qui oggi, parlo anche al plurale perché comunque cerco di includere anche mio marito visto che... Ricordati che dietro una grande donna c'è anche un grande uomo, te ne approfitti perché lì non c'è adesso. Vabbè, vabbè, dai. Comunque no, non c'è perché è lavoro, arriva alle 11 a casa, quindi questo per dimostrare che anche lui ovviamente riesce a fare questa attività nonostante la maggior parte delle ore è fuori casa, quindi un po' ci aiutiamo tra una discussione e l'altra, andiamo avanti. Quindi siamo Smeraldo, prossimi, ma veramente vicini, vicini, vicini a questa qualifica importantissima che è il diamante. Io veramente non sto più dormendo la notte perché ho un bello l'ora. Allora, per gli ospiti, ne abbiamo parlato più volte del diamante, per gli ospiti diamante vuol dire diventare un manager aziendale, ossia entrare nel consiglio di amministrazione dell'azienda dove vengono date le informazioni direttamente, dove si può parlare direttamente con la proprietà di Snap, quindi vuol dire diventare un manager a tutti gli effetti. Quindi diamante vuol dire top manager aziendale per chi è nuovo. Ok? Brava mille, grazie. Grazie a voi. Ritorniamo in Sicilia, ritorniamo in Sicilia dalla nostra Giovannina. Ciao a tutti. Come parlo? In siciliano o in italiano? In siciliano, così ti capisco. Ecco. Dai, siamo ancora, Giovi, siamo ancora in 300 collegati, è bene, molte cose. Wow, wow, wow. E allora, che dire, io sono felicissima di aver iniziato questa attività anche se io in realtà ho iniziato perché ho iniziato ad usare i prodotti che grazie ai prodotti ho avuto un bellissimo risultato che ho perso 50 kg. Ma detto questo non potevo dopo aver provato appunto i prodotti diventare semplicemente cioè anzi iniziare a lavorare con questa attività. Io prima facevo ben due lavori, lavoravo con gli anziani e lavoravo come commessa però in realtà grazie a tutta la formazione che mi è stata data da questi fantastici colleghi che mentre parlavano mi rispecchiavo parecchio perché comunque sono tutte storie reali che tutti noi un po' abbiamo passato qualcosa tipo aprire il negozio come diceva Luizza ma tante altre testimonianze, no? Per me ad esempio aprire un negozio è stato sempre il mio sogno nel cassetto però poi mi sono fatta due conti quando ho capito questa opportunità ho capito che lo potevo aprire comodamente da casa senza pagare nulla soprattutto i fornitori perché avere dei fornitori significa spendere tanti soldi e in quel momento wow esplosa la mia attività oggi sono uno smeraldo ho iniziato da zero anzi sotto zero perché c'era il mio tentori che mi richiamava e sono felicissima perché grazie a lui ma grazie a tutto il team ho avuto dei bellissimi risultati oggi c'è un team anche sotto di me delle colleghe fantastiche che lavorano e mi rendono soddisfatta e infatti stasera abbiamo festeggiato un nuovo supervisore e che dire sono felicissima dico a tutti valutatela questa opportunità perché come ho detto inizialmente facevo due lavori adesso faccio questo e guadagno di più di prima ecco e niente vi auguro che chiunque voglia iniziare questa attività di metterci solo un po' di impegno e di fare la formazione perché tutti i consigli che vi vengono dati sono intanto approvati da noi e quindi oggi se siamo qui a raccontarvi è perché si può si può realizzare qualsiasi sogno nella vita basta volerlo brava Jovini brava brava ok ultima testimonianza in doppia lingua anche adesso e vai Marchitos eh sì perché naturalmente da ex timido è giusto buttarsi anche in una zoom con 300 persone anche in inglese perché almeno la mia lingua madre esce anche in questo in questo motivo vabbè non c'è nessun problema mi chiamo Marco ho 39 anni e ho iniziato questa attività perché un po' per disperazione perché avevo un hotel ristorante era chiuso per il lockdown e mi è venuta in mente quella volta che ho parlato con questo grande Daniele Tentori e poi gli avevo detto non fa per me non sono la persona adatta per fare questo lavoro perché sono timido non voglio usare i social è un qualcosa che non fa nel non è nelle mie corde eppure mi sono dovuto ricredere perché perché ho deciso di buttarmi ho deciso di provarci naturalmente all'inizio gli ho dedicato molto tempo ma fortunatamente siamo in un team fantastico dove appena chiedi aiuto ti aiutano appena hai un dubbio c'è sempre qualcuno pronto a darti una mano e questo fa la differenza io da ex timido adesso anche parlare davanti a 300 persone sì naturalmente l'emozione c'è però è motivante perché comunque se ti guardi indietro guardi indietro due anni a questa parte dici wow quanta strada abbiamo fatto vedere le mie colleghe parlare prima è veramente un'emozione incredibile e fra un attimo parlare in inglese sarà la mia prima volta sarà il battesimo del fuoco sarà ancora più emozionante ma va bene così bisogna buttarsi perché obiettivamente se dobbiamo prendere i nostri sogni dobbiamo anche un po' lanciarci dobbiamo uscire da questa zona di comfort dobbiamo comunque buttarci perché se facciamo sempre le stesse cose otterremo sempre gli stessi risultati quindi io il consiglio che posso darvi è buttatevi perché comunque se ce la stiamo facendo noi ce la potete fare anche voi naturalmente bisogna impegnarsi però formazione gratuita apertura di un negozio presente in 38 paesi gratuita quindi con un potenziale di 700 milioni di persone che possono comprare nel vostro negozio e da ex imprenditore perché io ad oggi non ho più il mio hotel al ristorante e faccio solo questo vi dico che avere un negozio online gratuito è veramente tanta 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 roba adesso proviamo ci buttiamo e andiamo sulla lingua inglese Hello everybody My name is Marco I am 39 years old I work all my life in bar, restaurant, hotel and my family own many of them Unfortunately two years ago there was a lockdown and so I decided to find another way because I need the money My hotel was locked down I was really really embarrassing for this situation because I didn't know when the hotel can open the game So I remember that I spoke with Daniele Tentori and I decided to try this kind of work At the beginning I was really skeptical because I never done before I start this kind of job by sub-zero so if I start this job by sub-zero you can do it too At the beginning I work a lot and this helped me so much because the training is free the opening of the shop online is free so if a shy boy like me okay start this kind of job and have this kind of results you can do it too I know my English is not so bad and it's not so good but I try I try and I will try again because the comfort zone is not your life if you want to achieve your dreams you have to exit from your comfort zone and you have to go to take your dreams so my suggestion is don't waste your time start working with us and go to take your dreams to work with us you have to you have to learn collegati quindi un po' di gente si è addormentata però 280 siamo ancora ok allora vi abbiamo fatto vedere le testimonianze di un team vincente quindi siamo un team vincente che lavora avete conosciuto persone serie persone professionali e se volete risultati bisogna lavorare in modo serio e professionale quindi cosa abbiamo fatto abbiamo scelto l'azienda migliore del settore quindi la numero uno in italia e tra le migliori in europa abbiamo scelto la snap che è un'azienda che lavora nel campo del benessere certificata a vedisco che è l'ente che controlla tutte controllo le bilanci le certificazioni controlla che l'azienda sia solita e solida e funzioni bene che questo è un vantaggio per l'azienda stessa per i clienti e per noi collaboratori incaricati quindi la numero snap l'azienda numero uno in italia è tra le migliori in europa quindi abbiamo scelto l'azienda migliore per andare a vedere il nostro qua a parlare dei prodotti se no siamo quattro ore in zoom andate sul sito e guardate tutti i prodotti e servizi che da snap che sono tutti di di veramente di un'ottima qualità ad un prezzo accessibile a tutti perché si fa produttore consumatore quindi noi lavoriamo nel settore del network marketing adesso parliamo un attimino della della fiscalità siamo tutelati da una legge nazionale 173 del 2005 quindi paghiamo le tasse ci pensa già l'azienda a fare tutto non fa cumulo di redditi con un secondo stipendio con la naspi col reddito di cittadinanza col pensioni con qualsiasi attività perché questa a questa attività è già stipendio pagata con le tasse già ci pensa già la snap a pagarla per voi sarete pagata ogni 15 del mese con bonifico e wallet post pay eccetera eccetera prendere soldi non ci sono mai problemi allora una cosa perché abbiamo scelto snap è un consiglio che do a tutti networker e a tutte le persone che vogliono intraprendere un'azienda di network prima di collaborare con un'azienda andate a vedere la visura camerale dell'azienda se voi digitate visura camerale snap viene fuori tutti i dati fatturato dal 2020 22 milioni adesso ormai siamo già oltre 50 milioni di fatturato questi è da rinnovare a più di 40 dipendenti eccetera eccetera quindi per prima di iniziare un'azienda a lavorare collaborare con un'azienda andate a vedere la visura camerale poi andate a vedere importantissimo che sia scritta in avedisco come vi ho detto prima e poi il snap è anche sponsor ufficiale della fiorentina ok come avete potuto vedere qualche giorno fa marisa e noi abbiamo diamanti abbiamo la possibilità di partecipare anche alle partite della fiorentina nella proprio nello skybox che è proprio una sorta di terrazzino sul campo proprio della fiorentina dove anche si mangia si beve eccetera eccetera vabbè non c'entrava niente però ok come lavoriamo principalmente il nostro lavoro è strutturato su tre canali la prima è il tutto gira su far sì che le persone ci contattino lavorare in un certo modo per far sì che le persone ci contattino e ci chiedono daniele spiegami un po quindi lavoriamo ci chiedono su prodotti e servizi quindi avremo un e-commerce come vi hanno spiegato le ragazze prima un e-commerce un negozio voi avrete un negozio a costo zero zero responsabilità zero costi dovete solo esclusivamente lavorare primo metodo secondo metodo di guadagno è creare la propria rete di collaboratori quindi avere altre persone che con voi lavorano e distribuiscono con voi questa attività quindi se tutto il gruppo guadagna diventa diventa bravo più il gruppo diventa bravo più i guadagni si alzano più ci si diverte più ci si appassiona e più tutti ci guadagniamo terzo metodo è convenzione negozi negozi come estetisti parrucchieri palestre abbigliamento ristoranti eccetera eccetera possono avere prodotti gratis in conto vendita quando li vendono loro prenderanno il 25 per cento noi prenderemo l'altro 25 per cento tornando dietro un passimo un passo con dato che ci sono altri networker in in zoom mi sono dimenticato di dirle percentuali sulla rete cosa che sono le più alte in assoluto noi prendiamo dal 5 al 25 per cento di di royalty sulla propria rete di collaboratori che pagherà l'azienda a noi poi invece è un grandissimo traguardo anche questo tra i migliori piani marketing sulle vendite dirette noi prendiamo il 50 per cento dove venivo io prendevo il 20 per cento sulle vendite dirette quindi meno della metà prendevo il 3 per cento sulla rete meno della metà e non avevo la convenzione negozi quindi abbiamo scelto snap sull'analisi di più di 15 aziende abbiamo scelto snap perché era numero uno perché italiana perché certificata poi 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 concludiamo e andiamo aprite bene le orecchie sprendete carta e penna e segnatevi il piano marketing ok adesso abbiamo concluso tre minuti abbiamo concluso e segnatevi il piano marketing anche per chi è già dentro e lavora appena iniziato segnatevi il piano marketing ve lo spiegherò in due minuti perché quello di snap è semplicissimo a differenza di altri piani marketing dove ci vuole un'ingegneria matematica qua ma lo fanno per confondere le persone invece noi abbiamo un piano marketing dove io ve lo spiegherò in tre minuti in teoria posso spiegarvelo in 40 secondi però starò un pochettino più preciso e ve lo racconto in due tre minuti al massimo pronti al cronometro vediamo quanto ci mettiamo ok piano marketing piano marketing allora si entra con uno sconto si diventa incaricati con zero euro a differenza di altri network qua non ci sono costi d'ingresso zero euro zero non ci sono costi non ci sono obblighi non ci sono vincoli se non solo aver voglia di lavorare voglia di impegnarvi quello è l'unica roba che vi serve si entra col 25 per cento di sconto e di guadagno sulle vendite dirette poi bisogna raggiungere la qualifica più importante che è il supervisore come lo si raggiunge raggiunge il supervisore lo si raggiunge in due modi facendo 600 punti nella prima settimana di attività nei primi sette giorni dall'iscrizione oppure mille punti dal primo al dal primo al 30 al 30 del mese io ho la qualifica più alta ho appena detto avete sentito parlare smeraldi rubini diamanti quindi qualifiche avanzatissime che danno un sacco di soldi pagano tantissimo ma la qualifica più importante è il supervisore perché 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 passi dal 25 al 50 per cento sblocchi le royalties sblocca sblocchi le royalties e vai a prendere 25 per cento su l'incaricato poi vai a prendere il 5 sulla prima linea 8 sulla seconda linea 5 sulla prima linea 8 sulla prima sulla seconda linea e 6 sulla terza linea ok quindi 25 5 8 e 6 per cento e vi garantisco che come piano marketing è il numero uno in assoluto poi andiamo a vedere le qualifiche importanti che avete sentito prima dove dicevo zaffiro smeraldo rubino e diamante ok una volta che si raggiunge i 40.000 punti si diventa zaffiro si sblocca la quarta linea ossia si va a prendere due e mezzo per cento sulla quarta linea da rubino si prende 1,5 sulla quinta linea lo smeraldo 1 per cento sulla sesta linea e diamante 1 per cento sulla settima linea da diamante black si prende 1 per cento sull'ottava linea e poi tornando indietro tornando indietro c'è in più ancora il bonus infinito che cos'è il bonus infinito vuol dire un bonus finito è un bonus in aggiuntiva ancora che da all'azienda paga 1 per cento per ogni di queste qualifiche io in questo momento sono diamante black quindi prendo tutte le percentuali tutte le percentuali che avete visto prima su tutte le linee quindi 2,5, 1,5, 1,5, 1,1,1 più prendo il bonus infinito del 5 per cento quindi vuol dire che io prendo di media sulla quarta linea non prendo più 2,5 ma prendo 7,5 prendo 6,5 e via dicendo quindi è un piano marketing veramente vantaggioso e qui finisce il nostro piano marketing basta in aggiunta diventando supervisore tornando un attimino indietro si prende dei bonus di 300 euro su 3.000 punti che questo mese non è 300 euro ma c'è la promozione del 500 euro si prende 500 euro se si fa 1.000 punti e poi si accede al bonus annuale dei migliori 30 incaricati quello che vi ho fatto vedere prima dove io sono arrivato al settimo io ho preso 12.000 euro di bonus e l'anno prima ne ho presi 8.000 euro il nostro piano marketing è semplicemente questo quindi tornando indietro un attimo per chi inizia si entra al 25 e bisogna fare il supervisore perché è la qualifica più importante e la si fa con 600 punti dall'iscrizione dai 7 giorni di riscrizione oppure 1000 punti dall'1 al 31 i 600 punti li si può fare anche in una rata quindi in tre rate quindi con tre rate dividendo il 600 punti in tre rate si diventa supervisori praticamente snap consegna tutti i 600 punti di prodotti voi in 1-2 settimane rivenderete tutti i prodotti e praticamente nel primo mese avete già guadagnato 500 euro siete supervisori e il mese prossimo guadagnerete già 500, 600, 800 euro in base al tempo che vi dedicate e alle vostre competenze e alla formazione che farete per diventare sempre più bravi perché il nostro metodo funziona, paga ed è un metodo vincente a questo punto ho finito siamo ancora 280 persone collegate se volete fare qualche domanda così dopo concludiamo ciao Daniele